La zona del Benito Sirpe con Raffaele Maiello. Raffaele, ma che gol hai fatto? Veramente è stato un bel gol oggi. L'ho rivisto e sono molto contento, sia a livello personale che a livello di squadra. Secondo gol sagionale, ma questo molto più importante rispetto a quello con il Parma. Certo, è arrivato in un momento che non girava tanto per noi, quindi spero che ci dà la carica giusta, che ci dà la continuità che mancano in queste nove partite. È una vittoria più di cuore e rabbia agonistica questa che di tecnica? Sì, sì, sì. In questa partita c'è stato tutto, perché comunque la partita stavamo facendo noi anche nel primo tempo. Siamo andati sotto del risultato, quindi nell'intervallo è scattata quella rabbia, dove ancora una volta ci diceva male, perché Venezia ci stava creando ben poco. Quindi c'è stata una reazione d'orgoglio, di coraggio, di rabbia e questo ha portato il risultato dalla nostra parte. Un gol, un assist e questa è la tua miglior prestazione da inizio anno? Non lo so se è la mia miglior prestazione da inizio anno, però sono contento. Spero di continuare così e dare una grossa mano alla squadra. È la vittoria della svolta questa? Me lo auguro, me lo auguro perché mancano nove partite e tutti ci auguriamo che ci dà una carica in più per questo finale di campionato. Ciao Raffaele, una curiosità, avete giocato una grande partita a puntista della determinazione, che diventa furore paradossalmente nel momento più complicato. Si fa male Daniel e voi tirate fuori una rabbia colistica che francamente mi ha sorpreso. Ho letto bene il momento? Sì, anche secondo me nel primo tempo stavamo facendo una grande partita. Poi naturalmente finito il primo tempo eravamo sotto di un gol immediatamente, si è fatto male Daniel e quindi è scattata la scintilla che ci ha fatto ribattere il risultato. Ecco, ci abbiamo messo tutto in questa partita. Nella classifica non cambia sostanzialmente niente, adesso a Pasquetta tutti a guardare il Palermo. Sì, cambia ben poco, però ripeto, in questo momento contava il Frosinone. Il Frosinone doveva tornare la vittoria, doveva fare la prestazione, c'è stata. Ora facciamo questa Pasqua e sperando che arrivi un buon risultato da Parma. Posto, grazie. Grazie Raffaele. Grazie. Grazie.